La sezione impianti consente la modellazione di qualsiasi tipologia impiantistica, impianti centralizzati e o autonomi destinati al servizio di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, nonché di produzione di acqua calda sanitaria. Inoltre, la determinazione degli indici di prestazione energetica per l'uno o l'altro servizio possono essere calcolati considerando eventuali contributi da pannelli solari termici o fotovoltaici. Con l'ausilio dello schema grafico, si sceglie la configurazione impiantistica presente nel progetto. Nella maschera visualizzata, ad esempio, si è dotato l'edificio di tutti i servizi impiantistici, prevedendo inoltre l'integrazione di pannelli solari termici per l'acqua calda sanitaria e dei pannelli fotovoltaici. La configurazione scelta genera l'albero di navigazione visualizzato accanto alla barra dei comandi, facilitando così il successivo inserimento dei dati richiesti per la caratterizzazione dell'impianto. Selezionando il primo nodo relativo al servizio centralizzato di riscaldamento, acqua sanitaria e ventilazione, si accede alla scheda dati generali. In questa sezione è possibile inserire più circuiti con diversi terminali di emissione e diverse regolazioni, collegati alla stessa centrale termica. Ad esempio, l'unità destinata ad uffici potrà avere dei ventilconvettori, mentre gli appartamenti avranno dei radiatori. Selezionando il comando circuiti, sarà possibile creare il numero di circuiti desiderati ed associarvi ai vari locali. In questa sezione occorre anche inserire la modalità di funzionamento del circuito, continuato, con spegnimento o attenuazione, ed eventuali fattori correttivi proposti dalla normativa. La scheda sottosistemi richiede la definizione delle caratteristiche dei sottosistemi di emissione, regolazione e distribuzione del circuito. In quest'ultimo caso, è possibile scegliere se effettuare il calcolo semplificato oppure analitico. In entrambi i casi, sarà possibile specificare la potenza elettrica assorbita da eventuali pompe o ventilatori. Nel caso si scelga il calcolo di tipo analitico per la distribuzione, occorre associare la relativa rete di distribuzione. Selezionare quindi il pulsante Rete di distribuzione analitica nella barra multifunzione per creare o modificare una rete. Nella maschera, è possibile creare l'elenco di tubazioni che costituiscono la rete di distribuzione dei vari circuiti. Mediante gli appositi comandi, è possibile inserire una nuova tubazione e duplicare o eliminare una tubazione esistente. Per ogni tubazione, è necessario inserire i dati richiesti dalla norma 1.ITS 11.300 parte seconda, ovvero diametro esterno e lunghezza, tipologia, ad esempio correnti in aria, tubazioni interrate e incassate nella muratura, l'ubicazione e l'eventuale presenza di isolamento. Definite le eventuali distribuzioni analitiche, torniamo alla scheda Sottosistemi per il corretto inserimento dei dati relativi agli altri circuiti, se presenti. Nel nostro caso, compiliamo i dati per la zona uffici, seguendo lo stesso procedimento che abbiamo svolto per gli appartamenti. In base al tipo di emettitore e al tipo di regolazione precedentemente scelti nella scheda Sottosistemi, nella scheda Temperatura Media Acqua il programma richiede il tipo di circuito e propone i dati necessari per il calcolo analitico delle temperature del fluido termovettore. L'utente potrà compilare autonomamente questi campi o affidarsi ai dati proposti dal programma. Se l'impianto prevede un accumulo termico o una rete di distribuzione primaria, il programma consente l'inserimento anche di tali Sottosistemi. Nel caso dell'accumulo, occorre specificare l'ambiente di installazione del serbatoio ai fini del calcolo delle perdite recuperate. Se il generatore produce il fluido termovettore anche per altri utilizzi, oltre che per il riscaldamento e l'acqua calda, qui possiamo inserire gli eventuali carichi energetici mese per mese. La scheda Generazione consente l'inserimento dei dati relativi al tipo di generatore di calore presente nel progetto. Il programma gestisce sia la presenza di generatori singoli che di generatori multipli. Dal menu a tendina, scegliamo il tipo di generatore desiderato e, quando richiesto, il metodo di calcolo che si intende adottare. Le scelte possibili comprendono generatore tradizionale a condensazione, pompa di calore, caldaia elettrica, generatore a biomassa, teleriscaldamento e cogenerazione. E inoltre è possibile inserire manualmente i dati di rendimenti mensili quando questi siano noti. In presenza di generatori multipli, dopo aver selezionato la relativa opzione, basterà scegliere la tipologia dei vari impianti presenti. Nella maschera visualizzata, si è scelto come tipo di generatore una caldaia a condensazione con metodo di calcolo analitico. Occorre ora inserire tutti i dati caratteristici del generatore, eventualmente ricavati dalla scheda tecnica fornita dal produttore. In alternativa, è possibile agevolare l'inserimento dei dati richiesti accedendo direttamente all'archivio generatore del programma e selezionando il modello desiderato. Compilata questa maschera, è necessario passare alla scheda dati per generatori modulanti, se la caldaia rientra in questa tipologia, e completare i dati richiesti, eventualmente accettando quelli proposti dal programma. Infine, la scheda circuito in centrale permette, tramite la casella combinata, di definire i criteri di gestione delle temperature e la tipologia di collegamento idraulico tra la caldaia e il sistema di distribuzione. Terminato l'inserimento dei dati relativi al servizio di riscaldamento, selezionando il comando apposito, si passa al servizio di acqua calda sanitaria. Nella parte superiore della maschera, si definisce il fabbisogno giornaliero di acqua calda sanitaria che dipende dalla categoria di utilizzo di ciascuna zona. Ad esempio, nel caso di abitazione ed uffici, esso dipende dalla superficie utile riscaldata. Terminano la compilazione della maschera, l'inserimento dei dati relativi al sottosistema di erogazione e di distribuzione. La scheda Altri dati prevede l'eventuale caratterizzazione di un accumulo centralizzato della rete di ricircolo e della rete di distribuzione primaria. Per questi ultimi due sottosistemi, la specifica tecnica Unity S11300 parte seconda richiede un calcolo delle perdite di tipo analitico. Per questo motivo, mediante l'apposito menu, è possibile richiamare l'elenco delle reti di distribuzione precedentemente create, abilitando il pulsante nella barra multifunzione. Infine, nella scheda Temperature Acqua Sanitaria, vengono richiesti i dati necessari per determinare le condizioni di funzionamento del generatore di calore per la produzione di acqua sanitaria. Passando alla scheda Ventilazione, dobbiamo innanzitutto compilare la scheda Dati Generali, scegliendo il tipo di impianto tra sole emissione, sole estrazione e ventilazione meccanica bilanciata. Più in basso, con l'aiuto delle caselle combinate, dobbiamo poi fornire i dati relativi alla permeabilità dell'involucro edilizio e alla presenza o meno di sistemi per la regolazione della ventilazione. Nella scheda Portate, il programma calcola automaticamente le portate d'aria nelle sole zone o locali per cui abbiamo a suo tempo indicato la presenza di ventilazione meccanica. Vediamo infatti che i locali presenti si riferiscono esclusivamente alla zona ufficio che è dotata di questo servizio. Le portate proposte possono essere modificate dall'utente che può altresi indicare la tipologia di ventilazione prevista per i singoli locali, scegliendo quanto proposto dal programma coerentemente con la tipologia di impianto prima definita. Nella scheda Condotti, sotto la schematizzazione dell'impianto, vediamo altre schede. La scheda Tratto ETA riguarda il condotto di estrazione per il quale dobbiamo inserire la temperatura di estrazione e la potenza elettrica del ventilatore, anche tramite una procedura guidata. Infine, è possibile inserire le informazioni necessarie al calcolo delle perdite termiche lungo le canalizzazioni. Gli stessi dati andranno inseriti nella scheda Tratto SUP relativa al condotto di immissione. La scheda Tratto ODA è attiva solo nel caso di presenza del recuperatore di calore e necessita di dati analoghi a quelli appena visti. Nella scheda Altri dati, possiamo compilare i campi relativa all'eventuale presenza di umidificazione all'interno degli ambienti, scegliendo zona per zona tra umidificazione adiabatica o con immissione di vapore. Inoltre, è possibile effettuare il calcolo analitico della rete di distribuzione primaria, selezionando una rete di distribuzione prima già definita. Vediamo ora l'inserimento delle caratteristiche dei pannelli solari termici. Bisogna innanzitutto scegliere se la produzione di acqua calda tramite solare sarà a servizio del riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria o di entrambe. Se si dispone di EC712 solare termico, il calcolo di producibilità dei pannelli solari termici può essere effettuato in modo analitico, in conformità alla norma UNITS 11300 parte quarta e UNI EN ISO 15316 parte quarta, ed è integrato nel calcolo complessivo dell'edificio. Altrimenti, mettendo il check su dati noti e poi selezionando il simbolo dei pannelli solari sull'albero di navigazione, sarà sufficiente inserire manualmente le producibilità note o altrimenti calcolate. L'inserimento dei pannelli fotovoltaici è del tutto simile a quanto visto per i collettori solari. Possiamo scegliere se inserire una producibilità nota, oppure se condurre il calcolo in modo analitico, secondo la norma UNITS 11300 parte quarta e UNI EN 15316 parte quarta, abilitato solo se si dispone del programma EC713 solare fotovoltaico. In tal caso, sarà sufficiente inserire orientamento e inclinazione dei pannelli unitamente alle loro caratteristiche, desumibili dalle schede tecniche. Il programma gestisce anche la presenza di un eventuale impianto di climatizzazione estiva, determinando i relativi fabbisogni energetici secondo la norma UNITS 11300 parte terza. In presenza di impianto di raffrescamento, bisognerà perciò indicare la modalità di funzionamento e l'eventuale fattore correttivo dell'energia utile tramite la scheda Attivazione. Nella scheda Sottosistemi è necessario indicare le tipologie di terminali di emissione e i sistemi di regolazione dell'impianto. Il Sottosistema di distribuzione si divide poi in distribuzione di acqua refrigerata e di aria trattata. Per la distribuzione dell'aria è possibile inserire la rete con metodo semplificato o analitico. In entrambi i casi è necessario compilare i dati richiesti nella maschera che si attiva selezionando Rete canali raffrescamento, dove è necessario inserire l'estensione della rete con diametri, isolamenti e così via. Per la distribuzione dell'acqua refrigerata è possibile procedere in modo semplificato oppure analitico, inserendo una rete di distribuzione, esattamente come visto per l'acqua calda e poi richiamandola. In presenza di sistemi di accumulo dell'acqua refrigerata o di una rete di distribuzione primaria è necessario compilare la relativa scheda. Infine, nella scheda generazione si inseriscono tutti i dati della macchina frigorifera, anche selezionando una macchina dagli archivi relativamente alla sorgente interna ed esterna e quindi è necessario inserire le prestazioni dichiarate dal produttore. Il calcolo dell'involucro edilizio, comprendente potenza invernale, energia utile invernale ed estiva, trasmittanze medie ed illuminazione, avviene attraverso il comando Risultati fabbricato e la visualizzazione dei risultati è razionalizzata in un'unica maschera riepilogativa. Qui vediamo i risultati relativi al calcolo di potenza invernale per l'intero edificio oppure per singola zona. Selezionando le relative schede è possibile visualizzare i dettagli delle dispersioni per componente, per orientamento e un riassunto delle zone. Selezionando la scheda energia invernale si visualizzano i risultati relativi al fabbisogno di energia utile per il riscaldamento. Vengono riportati i risultati di calcolo sia mensili che stagionali riferiti all'intero edificio o alla singola zona termica durante la stagione convenzionale di riscaldamento. Qualora si rendesse necessario, il calcolo può essere svolto anche nella condizione di vicini assenti oppure scegliendo la stagione reale di riscaldamento. Tali funzioni risultano particolarmente utili nel caso si stia effettuando una diagnosi energetica dell'edificio. Selezionando le schede dettagli, scambi termici per componente e riassunto zone è possibile analizzare dettagliatamente i risultati di energia utile invernale nonché vedere i dati riassuntivi. La scheda energia estiva è del tutto analoga a quanto visto per l'energia invernale, ma in questo caso il calcolo viene condotto per la stagione reale di raffrescamento, in quanto nessuna normativa definisce un periodo di accensione per gli impianti di climatizzazione. La scheda trasmittanze medie permette di conoscere le trasmittanze termiche medie delle varie strutture, tenendo conto anche dei relativi ponti termici. Queste informazioni sono particolarmente utili quando si usa EC700 in abbinamento ad EC701 per verificare la rispondenza del progetto a specifici requisiti di legge, tra cui appunto la trasmittanza media delle strutture. La scheda illuminazione risulta attiva solo per le zone dell'edificio che non sono residenziali e quindi presentano fabbisogni di energia per l'illuminazione artificiale. Qui, per l'intero edificio, zona per zona o per singolo locale, possiamo vedere i fabbisogni di energia elettrica primaria per l'illuminazione. Il pulsante risultati energia primaria permette di accedere alla visualizzazione dei consumi in energia primaria relative al servizio di riscaldamento e di acqua sanitaria, al raffrescamento e alla copertura degli eventuali impianti solari termici e fotovoltaici. I risultati sono organizzati in sezioni differenti, con possibilità di visualizzare i valori stagionali e mensili dei fabbisogni termici ed elettrici, dei consumi di combustibile e di energia elettrica e dei rendimenti dell'impianto. Nel caso in esame, dove è presente anche l'impianto di ventilazione meccanica, il programma calcola i fabbisogni sia dell'impianto idronico che dell'impianto aeraulico. Selezionando fabbisogni sagionali mensili sulla barra multifunzione, si apre una scheda riportante i fabbisogni di energia termica ed elettrica dell'impianto di riscaldamento, esposti mese per mese, sia per l'impianto idronico che per quello aeraulico. Selezionando dettagli impianto sulla barra multifunzione, si apre una scheda riportante i rendimenti mensili dei vari sottosistemi impiantistici delle due tipologie di impianti presenti. Tramite il comando Temperature medie, il programma consente la visualizzazione delle temperature dell'acqua calcolate nelle varie sezioni dell'impianto e per i vari circuiti. I risultati di calcolo vengono presentati sia in forma grafica che tabellare. Il comando Risultati per generatore permette di visualizzare i fabbisogni e le perdite di ogni singolo generatore evidenziando mese per mese rendimenti e consumi di combustibile. Il pulsante Ripartizione carichi visualizza la ripartizione dei carichi di riscaldamento tra i vari generatori presenti nella centrale termica. Tramite il comando Firma energetica è possibile visualizzare l'andamento della potenza termica media richiesta in funzione della temperatura media esterna. Dati analoghi, con le opportune modifiche caso per caso, vengono mostrati per acqua calda sanitaria e per il raffrescamento. Nelle schede Solare termico e fotovoltaico è possibile visualizzare la producibilità dei pannelli, la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria e di fabbisogno elettrico dei vari impianti presenti. EC700 è corredato da archivi di supporto esaurienti e costantemente aggiornati e aggiornabili anche a cura dell'utente. Vi sono inseriti, tra gli altri, materiali edili, generatori e pompe di calore, tubazioni, collettori solari e fotovoltaici, nonché strutture edilizie. L'utente può utilizzare elementi presenti in archivio oppure inserirne di propri. L'utente può utilizzare elementi presenti in archivio oppure inserirne di acqua calda di acqua calda di acqua calda di acqua calda di acqua calda. L'utente può utilizzare elementi presenti in archivio oppure inserirne di acqua calda